Siamo con Rocco Barbaro nell'autobrata sidernese. Rocco Barbaro, questo scenario incantevole del borgo calabrese, cosa le trasmette? Mi trasmette che la Calabria è come una donna, ti accorgi delle sue bellezze nel momento in cui cominci a scoprirla e io oggi ho scoperto questa bellezza immensa. Grande emozione oggi stasera, parlaci un po' dei nuovi progetti, come è andata l'estate? Devo dire che sono molto contento, abbiamo lavorato, ho lavorato anche tanto in Calabria, a Sant'Agata del Bianco è stata un'altra meravigliosa sorpresa per il posto, per la gente, per l'organizzazione e tutto e il nostro lavoro è questo, lavorare, far divertire e quindi ci dà questa grande opportunità di scoprire posti magici come questo ed altri che ce ne sono tanti in Calabria. Venite qui al borgo di Siderno Superiore perché ne rimarrete veramente attratti, sedotti, colpiti non vi trasferirete da nessun'altra parte, rimarrete qua. Grazie a tutti!